ma bella a tutti ragazzi qui è il vostro atlas e oggi siamo ritornati con il nostro terzo episodio di dream league allora questa è la partita dun di dun di una squadra del buru di neve il tiro non va però ce l'ho quasi e mezzo attenzione doppio cross mamma mia che capata voglio con sta neve non riesco a vedere la palla eh accidenti inestate attenzione Anderson recupera palla Flores Barnes con il suo scatto felino però anche gli schi eh sì infortunato pure no no accidenti infortunato Barnes ok ok Lucas recupera palla la passa Vangerlove Vangerlove la passa Gallinger 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 la passa Longrid e col suo scatto felino la prova a mettere in mezzo non va attenzione Anderson proprio recupera palla ce la fa James recupera Lucas la passa Kent Kent questo è rosso che giallo guardate mi ha sorpassato le gambe cross in mezzo per Vangerlove non va finire il primo tempo più prima Gallinger la passa Henderson Henderson a Kennedy Kennedy a Lucas Lucas l'amante in mezzo per Flores Flores con il suo scatto felino Golasso Schweinsteiger attenzione attenzione ma che gole ma che gole Schweinsteiger attenzione attenzione subito mi piace per sto gol subito mi piace Vangerlove Flores la passa Gallinger Gallinger col suo scatto felino si prova a trofulare in mezzo a nessuno Vangerlove attenzione se continuiamo a fare questi tiri ma vince la coppa del nonno non la coppa della Dreamleague allora Kennedy presidente Kennedy la recupera la passa Gallinger Gallinger la passa Vangerlove Vangerlove con il suo scatto felino con il suo scatto felino Vangerlove Vangerlove prova il tiro non va la passa il suo scatto felino oh vangelo vangelo 2-0 e e e e e e programmi sveinsteiger attenzione sveinsteiger la passa gallinger che la perde che però flores la recupera di nuovo che la perde però la recupera di nuovo la passa vangelo vangelo e che cos'è però santa pasqua minchia per perdere palla e andiamo a vincere buona partita sveinsteiger col suo splendido gol di rovesciata mamma mia 4 big money 18 big money siamo premi ok continuiamo la prossima è con la lazio lazio facciamo adesso questa è la global challenge ma c'è più ok mamma mia stretching con le aperture alari che c'hanno mamma mia hanno sventolato le ascelle sei due buono amico sei due buono amico attenzione oh oh ahhh oh flores ma dai suuuu santa pasqua lascia correre no easy peasy grande surri easy peasy lemon squeezy allora allora parlando di surreal power allora volete anche dei video su minecraft scrivetemi scrivetemelo qui sotto nei commenti allora florence scivolata no caccio il rigore caccio il rigore attenzione che è il nonno della biramoletti mamma mia un debito attenzione pariamo pariamo buon uomo dai 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 oh attenzione palotto mamma mia do la tira mio portierone pelatone rapparo smash tiger attenzione 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 il giocatore la manda in mezzo alla tribuna Kent ritesta per vunkerlof vunkerlof con il suo scatto felino prova gli skill eh niente skill vunkerlof ora siamo in mezzo da qui vunkerlof 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 1 a 0 vunkerlof 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 attenzione mancherlo la crossa ma mi scusi buon uomo do la crossa riprendiamo James la crossa in mezzo Schweinsteiger la passa a Wangerlof Wangerlof la passa all'avversario attenzione Wangerlof Gallenger pallonetto mamma mia umiliante accidenti basta basta immobile se non è Lucas la recupera la mette in mezzo per nessuno non sono è Lucas Lucas vuoi provare la scivolata morbida attenzione mamma mia Flores che cos'è tutti stili in palli Wangerlof gli skills Wangerlof gli Wangerlof golinger 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 prova il tiro oh non va mamma mia partita emozionante wow avevo detto che c'è la testa d'uovo Kente cerca di recupera la palla ce la fa attenzione forse ultimazione forse ultimazione forse ultimazione forse ultimazione Judas the animals un minuto di recupera ultimazione fischia oh mi scusi buon amo col fischietto fischi grande una partita Schweinsteiger prossima col Bilbao ovviamente allora di rifiutare la scuola no grazie allora come vi ho detto prima se volete video di minecraft o altri giochi scrivetelo qui sotto nei commenti allora per questo video 5 mi piace prossimo video qui è il vostro Atlas che vi saluta bella